Aumento pensioni in validità da gennaio 2023 Informiamo la comunità sorda che dal 1 gennaio partirà la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. I cittadini con disabilità per settori di prestazioni assistenziali, così come i pensionati, dal prossimo anno potranno quindi trovare un aumento sulle loro pensioni e assegni. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, infatti, ha firmato il decreto che dispone, a partire dal 1 gennaio, un adeguamento pari a più 7,3% delle pensioni dei cittadini. L'aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base dell'inflazione, ossia la variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'ISTAT. Va tenuto conto che l'indice ISTAT preso in considerazione è del 3 novembre 2022, non è il dato definitivo per quest'anno. Se l'inflazione dovesse continuare a salire in questi giorni, quindi, ci potrebbe essere un ulteriore aumento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Sarà nostra premura informarvi non appena l'indice ISTAT e i conseguenti aumenti saranno definitivi, fornendovi tutte le cifre nel dettaglio. Intanto ecco la lista completa delle prestazioni assistenziali coinvolte dall'aumento. Grazie e ciao!